Un altro importante passo in avanti per il completamento della Due Mari, così il capogruppo PD in Regione, Vincenzo Ceccarelli, dopo i pareri favorevoli delle commissioni lavori pubblici di Camera e Senato sullo schema del DPCM relativo agli interventi infrastrutturali sottoposti a commissariamento. Dopo l'ottimo lavoro fatto con la Ministra De Micheli, alla quale la Regione aveva chiesto di inserire l'opera tra quelle da commissariare per garantirne la realizzazione, ora il Ministro Giovannini si è impegnato a chiudere rapidamente il decreto sulla base del quale i commissari potranno avviare il proprio lavoro. Una notizia doppiamente importante, commenta Ceccarelli, da un lato per dare un impulso decisivo al completamento di un'opera fondamentale per la provincia di Arezzo e l'intera Toscana e in secondo luogo per dare uno stimolo al lavoro e all'occupazione. A questo proposito infatti il Ministro ha richiamato anche il protocollo sottoscritto con le parti sociali a dicembre 2020 che, in conformità con le norme del contratto nazionale, ottimizza i turni di lavoro anche squadre operanti sulle 24 ore e 7 giorni su 7 per rendere più veloci cantieri delle infrastrutture commissariate e per favorire l'aumento di occupazione in condizioni di piena sicurezza.